Ciao Caronte, sei stato gentilissimo, davvero... Non è Minosse quello, Minni! Minosse, grazie. Dove devo andare, Minni? Affanculo, che reato è corrisso. Ho soltanto commesso il reato di parlare in corsi, Dio, nella vita. Dove devo andare, Dario? Potremmo darti alla nona fossa dell'ottavo cecchio, dai seminatori di discordia. Come comizione, verrei pugnato dai demoni. Oppure nono cecchio, zona 2, i traditori della patria. Dove ce non ci fa anche ghiaccio. Ho capito, vado di qua, allora, grazie. Ma qua mi stanno uccidendo, ragazzi. Ma mi stanno vogliendo. Piano. Ma che... Fa freddissimo, Amio. Mi siete pazzi, in quest'aria condizionata. Sfile occurenti, abbassatela. Torno indietro, io. Ma se te voglio. Minni, non mi bisogna nessuno dei tuoi posti, per favore. Come stare con te? Ma che lavoro è stato in te? Ma ti prego, Amio. Come stare con te? Ai tempi di dati non esistiva il corsico. Non puoi. Ma che stai facendo? Portate una fonda di ferro. No, per favore, Minni. Ma per scomunire. Ti giuro che imparro la legina commedia. Amio, per favore. Ma che stai facendo? Ma che stai facendo?